L'eredità della guerra. La grande guerra portò all'Europa e al mondo la morte di circa 9-10 milioni di soldati. Un bilancio gravissimo, un bilancio come mai il mondo aveva visto prima di allora, ma al fine della guerra questo bilancio venne aggravato da una malattia, da un'epidemia che si diffuse, la cosiddetta epidemia di spagnola. Questa epidemia era di un'influenza, era chiamata spagnola perché ne parlarono per la prima volta i giornali spagnoli e questa malattia portò tra il 1918 e il 1919 milioni di persone alla morte che già avevano sofferto abbastanza direi. E questo è solo l'ennesima catastrofe, potremmo dire, che si abbatte sull'Europa e sul mondo in questo inizio di Novecento. Questi effetti sono stati drammatici in Europa e le condizioni precarie dei campi profughi, degli ospedali, e quindi nei giorni successivi alla guerra non fanno altro che alimentare questa situazione. I civili qui e là all'interno dell'Europa sono costretti a spostarsi perché vivono in luoghi non ritenuti sicuri, perché le loro città e le loro case sono state abbattute e quindi si diffondono sempre più campi profughi e iniziano, inizia anche a parlarsi di campi di concentramento in cui vengono rinchiusi prigionieri di guerra, ad esempio, che questi campi purtroppo saranno ancora famosi anche in epoche successive. Alcune popolazioni vengono addirittura deportate, proprio perché questa violenza diffusa che aveva portato alla guerra rende normali anche alcuni comportamenti violenti e inaccettabili da parte di alcune popolazioni. Uno dei casi più tragici è quello della deportazione da parte dell'impero ottomano degli armeni. Gli armeni sono una minoranza cristiana che viveva nella parte, vive nella parte orientale della Turchia ed è ai confini appunto con l'impero russo. Gli armeni da sempre sono stati discriminati perché vivevano in una zona a maggioranza musulmana e quindi sono sempre stati maltrattati dai popoli che avevano vicino. Allo scopo della Prima Guerra Mondiale l'intera comunità armena è stata sospettata di tradimento in favore dei russi che erano nemici dell'impero ottomano e i giovani turchi che guidavano l'impero organizzarono tra il 1915 e il 1916 una deportazione forzata nel deserto medio orientale degli armeni e uccisero all'incirca, si stima, un milione appunto di armeni. Questo è il primo sterminio di un intero popolo, cioè un genocidio, il primo esempio di genocidio organizzato da un paese europeo. Più avanti ce ne saranno altri. A questo punto l'economia e la situazione economica e anche morale, psicologica dell'Europa è davvero a terra. L'inflazione è alle stelle e il costo della vita quindi è sempre più alto. Molte sono le industrie che sono costrette a chiudere o a licenziare le persone e quindi aumenta la disoccupazione. A questo si aggiungono i reduci che magari in seguito anche a ferite riportate durante la guerra non riescono a trovare lavoro. In questo video abbiamo visto alcuni esempi, soprattutto parliamo di quello della deportazione armena, in cui la suefazione alla violenza ormai è evidente. Il clima di odio che si è creato in Europa è molto frequente e soprattutto negli stati sconfitti si diffonde sempre più un pensiero e un'idea di ribalsa che porterà ad altra rabbia e ad altra violenza negli anni successivi.